Conte, rischio di contagio e di ritorno ancora molto alto, meccanismo di emergenza pronto a scattare, altri paesi frenano su riaperture. Pase 2, il PD, governo, ascolti il Parlamento, 5 stelle, bene la cautela, Salvini, primo maggio, piano nazionale per la ripartenza. Da inizio epidemia in Italia i contagiati salgono a 200.000, il virus circolava in Lombardia già alla fine di gennaio. I nodi del trasporto pubblico e del commercio, le nuove misure da adottare, i distanziamenti e i dubbi dei pendolari. Francia, riapertura condizionata dei dati, materne ed elementari su base volontaria, ancora chiusi i licei, stop al campionato di calcio. Catturato in Trentino l'Orso M49 in fuga dallo scorso luglio, trasportato in un'area faunistica per evitare che scappi di nuovo. Si pari chiusi e teatri vuoti da Roma a Parigi a Buenos Aires, il mondo festeggia in streaming la giornata internazionale della danza, tra prove in casa, omaggi e grandi spettacoli del passato. Grazie. 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 Grazie.